Altre notizie Tutte le donne piemontesi sono invitate a partecipare al nuovo percorso di formazione protagoniste nei governi locali, proposto dalla Consulta delle Lette per il 2012 incentrato su temi utili per chi intende svolgere un ruolo attivo nel governo degli enti locali. L'iniziativa verrà presentata il 25 novembre durante l'Assemblea delle Lette nelle amministrazioni locali del Piemonte al Teatro Carignano di Torino. La Presidente e la Vice Presidente della Consulta, Giuliana Manica e Rosanna Valle nella conferenza stampa del 25 ottobre hanno spiegato che l'appuntamento sarà l'occasione per aprire le iscrizioni al corso di approfondimento che si terrà nelle varie sedi provinciali. Ascoltiamo la Presidente della Consulta, Giuliana Manica. Aumentare il numero di donne all'interno della politica e delle nostre amministrazioni e delle nostre istituzioni è l'obiettivo della Consulta delle Lette. Per questo ripartono i corsi di formazione delle Lette e per tante altre donne all'interno di tutte le province piemontesi e il 25 di novembre, giorno della violenza contro la donna, una grande iniziativa al Carignano a livello nazionale e internazionale con le Lette italiane e del resto d'Europa per una nuova carta di Torino per aumentare il numero delle donne nelle istituzioni.